Sopra il vostro settembre è un progetto aperto di public history sulla memoria cilena. Public history significa far uscire la storia dall'accademia e dagli archivi, inondarne le strade e coinvolgere le persone nella costruzione della propria memoria. Le tre persone di cui vogliamo raccontare la storia sono tre esuli cileni della dittatura militare di Pinochet. Il Cile in 17 anni di dittatura ha avuto quasi un milione di esuli politici su una popolazione totale di 11 milioni di abitanti. Molti di questi sono arrivati in Italia dove hanno trovato ospitalità e solidarietà. Da allora la storia dei nostri paesi è per sempre intrecciata. Quando il dittatore ha abdicato la democrazia si è costruita su un compromesso con i militari, un'importante conquista certo, ma la memoria dell'esperienza di governo di Salvador Allende, della dittatura militare e della resistenza alla giunta, rischia di indebolirsi o di andare perduta. Quello che vogliamo fare allora è costruire un documentario capace di raccontare la storia di questi tre esuli, ma non solo. Vogliamo anche costruire un archivio digitale che contenga documenti, testimonianze e materiali di approfondimento sulla storia del governo di Salvador Allende, della dittatura militare e della resistenza alla giunta. Per fare questo però abbiamo bisogno di un piccolo aiuto. Sopra il vostro settembre è un lavoro di squadra. Vi partecipano a titolo volontario storici, web designer, registi, musicisti e grafici. Quello che vi chiediamo è solo un piccolo contributo di qualsiasi entità, fondamentale però per noi per la realizzazione del progetto. Grazie mille. Spero che lo entiendano a quelli che chiedono ritrovare la storia e riconoscere la volontà di maggiorità e al estipio.